Sono circa 220 ad Arezzo i giocatori patologici che stanno seguendo un percorso al CERT. La maggior parte sono uomini sulla quarantina e con un lavoro precario. Ormai non giocano più per vincere ma per cercare di recuperare quello che hanno perso e finiscono così per essere risucchiati nella spirale viziosa del gioco d'azzardo. Sono numeri preoccupanti che non accennano a diminuire ed è proprio per contrastare questo fenomeno che anche ad Arezzo nasce il movimento Slot Mob. Un'iniziativa volta a premiare i bar che scelgono di rinunciare ai facili guadagni delle slot machine seguendo l'esempio di chi ha già fatto questa scelta coraggiosa, il bar 500. La nascita del movimento è venuta perché è nata da una relazione personale con un amico che era stato felice che il bar sotto casa sua avesse tolto le slot machine. Ci siamo domandati come mai era così contento e abbiamo scoperto una cosa che non avevamo mai saputo ovvero che in casa sua c'erano stati dei rischi di dipendenza per cui abbiamo festeggiato insieme a lui questa rinuncia del bar e poi abbiamo scoperto che potevamo organizzarci attraverso il movimento Slot Mob. Il gioco d'azzardo è una patologia, è una delle nuove dipendenze è una dipendenza che crea dipendenze, è una dipendenza che crea disagio ci vuole un po' di coraggio a dirlo e però noi lo abbiamo quindi lo diciamo e lo facciamo. Una iniziativa come quella di Slot Mob è estremamente importante perché va a interrogare e anche a dare delle risposte a tante persone che pensano, temono di risposte e soluzioni non averne più. È una possibilità, un'occasione anche per gli stessi gestori che travolta hanno verso la macchina ma verso anche un rapporto col giocatore delle difficoltà ma è certamente molto più potente quello che ciascuno si interroga riguardo le proprie vulnerabilità verso il gioco e anche pensarsi risorsa per poter fare del bene verso altre persone che sono in difficoltà e muovere una solidarietà verso di loro e le loro famiglie.